Torniamo a incontrare uno dei marchi più attivi in Europa nel mondo Android, si chiama BQ. Forse la pronuncia più corretta potrebbe essere BQ, ma a noi piace anche BQ pensando che questo è un marchio spagnolo che ci porta a un prodotto molto interessante, si chiama Aquaris X5, che ha una caratteristica fondamentale, il fatto che al suo interno ci sia un software realizzato da Cyanogen. Su questo arrivo tra poco, perché questa è una parte tecnica che vorrei spiegarvi con particolare attenzione. Prima però voglio mostrarvi il resto di questo telefono, che ricalca da vicino quello che è lo stile di BQ, che ha scelto delle linee molto semplici, molto morbide, bisogna dire, minimali, con una caratteristica, quel gradino tra il profilo laterale e la parte posteriore che ormai è diventato un segno distintivo. Nel caso del prodotto X5 o X5, BQ ha scelto di utilizzare uno chassis in alluminio che viene attaccato senza soluzioni di continuità alla cover posteriore, che invece è in materiale plastico. Potete notare proprio come il gradino tra la parte in alluminio e la parte in plastica sia proprio uno dei segni distintivi. Ma altra caratteristica da sottolineare di questo telefono è il display HD da 5 pollici. Non è una grandissima definizione, però tutto sommato la qualità delle immagini è buona. Non c'è una grandissima densità di pixel, quindi vedete che insomma anche le icone non sono proprio ridotte rispetto a quello che siamo abituati a vedere nei telefoni di fascia più alta. Ecco, parliamo proprio del prezzo. BQ X5 viene venduto al prezzo di 249 dollari, che per la dotazione che viene promessa ai clienti tutto sommato è un prezzo più che buono. Cosa c'è dentro? Intanto un processore Snapdragon 412, che è una soluzione molto comoda, soprattutto per il fatto che fornisce una buona velocità con un consumo dei dati molto limitato. C'è una fotocamera da 13 megapixel sul retro, peraltro utilizzando un sensore Sony, quindi di ottima qualità, e da 5 megapixel sul fronte. L'apertura dei due sensori fotografici è identica all'apertura 2.0. Ho provato tra l'altro questo telefono con degli scatti in diverse condizioni di luce. Bisogna dire che non è velocissimo nella messa a fuoco, quindi se scattate foto a soggetti in movimento potreste avere qualche difficoltà, ma per il resto la qualità delle immagini è assolutamente più che buona. La batteria di BQX5 è da 2.900 mAh, ormai siamo abituati a conoscere su mal'equazione. Un processore parco nei consumi, un display senza grandissima definizione, vuol dire che l'autonomia è comunque più che sufficiente per andare ben oltre una giornata di utilizzo di questo telefono. Ma vorrei un attimo entrare nel dettaglio di che cosa c'è dentro, cioè di che cosa vuol dire avere un'edizione Cyanogen del software. Cyanogen è una società che è nata tempo fa quasi per gioco, per ottimizzare il software di Android che fino a qualche tempo fa era spesso un po' lacunoso e magari non velocissimo. Questa struttura è diventata una società importante in cui c'è il finanziamento di molte aziende e anche produttrici di telefoni che hanno contribuito a creare una versione più evoluta, più semplice ma anche volendo più sofisticata proprio del mondo Android. Guardando da vicino ad esempio il funzionamento di BQX5 potete vedere alcune aggiunte come la gestione dell'audio, una gestione più sofisticata dell'accensione dei pulsanti, lo spostamento ad esempio dei pulsanti dall'interno all'esterno del display. Tutte soluzioni che rendono questo telefono facilissimo da usare se volete fruirne nel modo più semplice ma volendo vi danno possibilità di personalizzarlo molto di più di quanto vi potrebbe far fare la versione normale di Android. BQX5 è un prodotto molto carino da vedere nel suo design minimal, il prezzo come detto 249 euro è molto competitivo ma è un prodotto interessante tra le alternative di Android della fascia medio-bassa.